In Italia una donna su tre è vittima di abusi. Il 60% delle violenze avviene tra le mura domestiche e circa il 25% per strada. In tal senso può risultare assai utile il secondo corso di autodifesa rivolto a donne di tutte le età, presentato all'Expo di Pedara. Una trentina di donne e ragazzine con le loro madri, giovane ma anche anziane dai 15 ai 60 anni, hanno scelto di aderire al programma di 13 incontri gratuiti finalizzati all'insegnamento di tecniche di autodifesa. E' importante per una società che si voglia dire civile, la possibilità di poter dare alle donne un'istruzione per quanto riguarda la prevenzione contro gli atti di violenza che purtroppo troppo spesso si sentono in questo momento particolare. Poter dare questo tipo di strumento penso che sia un momento importante per un'amministrazione. L'idea di poter dare un supporto sia dal punto di vista pratico con manovre importanti di poter eludere eventuali attacchi fisici, così come anche un'istruzione sulla normativa vigente a difesa delle stesse donne o come anche il supporto psicologico importantissimo in caso di violenza, credo sia un dovere per un'amministrazione. Un'amministrazione che ha già fatto tanti passi, ad esempio l'apertura dello sportello contro la violenza delle donne, uno sportello dedicato a chi subisce violenza per essere eseguiti lungo un percorso particolare, sempre a fianco alle normative che supportano le vittime di tale violenza. A distruire le partecipanti al corso sarà il maestro di karate Antonio Cannavò, che mette a disposizione la sua esperienza quarantennale. È un corso in cui si cerca di dare alle donne, presente ai corsi, di prendere con sepavolezza del proprio io, cioè cercare di far uscire quell'energia nascosta che loro hanno, però che non riescono a capire che hanno questa energia. Spesso la donna, ma per fattori culturali, è sempre costretta a subire. Io mi occuperò prevalentemente della parte legale. Approfondiremo la consapevolezza sul piano penale nel senso della necessità di denunciare ad ogni costo, perché spesso questi fenomeni vengono sottovalutati come se fossero normali. Non c'è nulla di normale nella violenza, non c'è nulla di normale nella sopraffazione. Spiegherò alle corsiste che non esiste soltanto come metodo l'esposto o la denuncia penale.